ben ritrovati oggi giornata nuvolosa anzi piovosa ma un po più calda degli altri giorni bassa pressione niente facciamo l'uscita a un lago in belli alla ricerca dei bassa funnali che si spera abbiano voglia di alimentarsi in vista dell'inverno sperando di non prendere troppo acqua sulla testa quindi come al solito niente ci vediamo fra poco per vedere com'è andata ciao cominciamo partiamo con un gig con un gigante Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Vai... ... 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